Grazie, buonasera a tutti, sarò brevissima, magari tornerò dopo se è necessario nella processione perché gli interventi sono tanti e il dibattito è sicuramente molto interessante. Consentitemi però alcune riflessioni, innanzitutto sono onorata di essere qui questa sera, il mezzo al popolo dipendentista, finalmente per molti di noi si sta realizzando un obiettivo che ci avevamo posto tanti anni fa, io più volte l'ho detto, l'ho chiesto un po' a tutti i rappresentanti, dobbiamo fare squadra, abbiamo lo stesso obiettivo come partitoli politici, movimenti, di raggiungere l'indipendenza della nostra regione, quindi ognuno di noi, ognuno di voi può votare quello che vuole quando andrà a votare, ma quando si parla di indipendenza, quando si parlerà di referendum, noi qui dentro siamo tutti amici. i nemici sono, non possiamo e non dobbiamo essere gelosi tra di noi, la battaglia da fare è importante e ora più che mai dobbiamo veramente combattere nella stessa direzione. è già stato detto, la strada è tracciata, ma è ancora molto complicata, troveremo molti ostacoli, ma mai si è partito e si è partito tutto insieme. Il primo obiettivo, tutti lo sappiamo, è ovviamente il 17 settembre, il Consiglio regionale si unirà e dovrà decidere e votare il PDL famoso che è stato citato, il 3-4-2 citato prima. Ora, qui sappiamo benissimo che non è scontata la cosa, sappiamo benissimo che alcuni partiti, la Lega come Furlanetto, come tanti altri consiglieri regionali si sono già schierati in maniera molto chiara, queste gambe, sappiamo cosa faranno quel giorno, molti altri no, non l'hanno ancora fatto, stanno tentando di bloccare la stessa discussione, ecco, ognuno di noi deve in questa fase tentare di convincere quei consiglieri regionali, io ho letto ed è ancora esposto il vostro slogan, il Veneto decide, noi chiediamo ai consiglieri regionali semplicemente di lasciare i Veneti a decidere, vogliamo fare il referendum, loro non so come la pensano, non mi interessa anche poco, anche se un Veneto che non vuole più autonomia, più soldi a casa propria è un Veneto che non comprendo, quindi i consiglieri regionali devono votare quel progetto di legge per permettere finalmente a noi Veneti di fare questo benedetto referendum che è un messaggio politico importante in questa fase in cui non ce la facciamo più, qui ci sono tanti sindaci che hanno portato nel proprio consiglio comunale questo ordine al giorno, tanti piccoli e grandi comuni che hanno voluto mandare un messaggio, mi fa piacere che anche il comune di Verona abbia aderito non solo perché è l'unico comune capoluogo ma perché è anche il comune più grande governato dal centro-destra di tutta Italia, quindi è anche un segnale importante che stiamo mandando a tutto il paese, non si sta scherzando, è questo che vogliamo dire. Poi la strada, dicevo prima, c'è la petizione, voi avete firmato la petizione europea per chiedere all'Europa di aiutare, di vigilare su questo referendum, le firme sono state raccolte, la settimana prossima incontrerò la Presidente della Commissione Petizioni e da lei avrò risposte sui tempi e sui modi in cui verrà discussa questa petizione e poi ovviamente sarà mia cura avvertire subito tutti voi i vostri Presidenti per capire quale percorso da prendere. Poi c'è l'iniziativa dei cittadini, un'altra iniziativa che sicuramente poi mi parlerà, per chiedere all'Europa, anzi pretendere all'Europa quello che più in adesso ci ha mai permesso di avere, quindi sono tutte iniziative che vanno in quella direzione. E poi ci sono io che continuo a rompere le palle, le scatole, al buon Barroso e a tutta la Commissione Europea attraverso interrogazioni e altre iniziative che ho fatto e che voglio continuare a fare anche grazie a vostro aiuto. Tra di voi ci sono autorevoli giuristi che con passione stanno lavorando in questa direzione, quindi sono a disposizione per qualsiasi altra iniziativa. Sappiamo che Barroso un anno fa, al fine agosto, ha aperto una strada importante che è stata l'importante anche nel tabellone prima, cioè ha detto chiaramente che è possibile la successione da uno Stato membro e da lì si sono aperti per noi, ma anche per i catalani e per gli scozzesi, delle prospettive e delle speranze enormi. È anche vero però che da quel momento l'Europa ha cominciato a avere paura e alle interrogazioni successive ha risposto in maniera meno chiara e meno entusiasta. Questo però non ci deve fermare anche perché l'Europa così come l'abbiamo vista fino ad adesso sta fallendo, è fallita, continua a prendere potere dagli Stati membri, quindi adesso le nazioni sono senza cuore. Ecco che ha ancora più senso dare potere alle regioni, ecco che ha ancora più senso dare spazio al Veneto, alla Catalonia, alla Scozia che vogliono, come vogliamo noi veneti, avere questa possibilità di avere quella indipendenza, di staccarsi dalla propria capitale che continua a chiedere, chiedere, continua continuamente a chiedere e mai a dare. È un momento economico troppo difficile per non capire che o è adesso o mai più, quindi è il momento di lottare fino in fondo, tutti assieme, nelle varie sedi che abbiamo davanti e sappiate che ognuno di voi ha un compito importante perché poi dobbiamo convincere 5 milioni di veneti a votare per quel referendum. Quindi qui ci sono le associazioni, ci sono le varie persone, ma ognuno di noi ha quel compito successivo che è altrettanto fondamentale. Quindi grazie di cuore per quello che avete fatto, ma soprattutto buon lavoro a tutti noi per quello che dobbiamo fare.